Ed ora apriamo la pagina sportiva, ci occupiamo di calcio di Serie C, atteso per domenica alle 18.30 all'Adriatico Cornacchia, l'incontro tra Pescara e Re Canatese. Allora sentiamo quali sono le novità e le aspettative anche direttamente da Massimo Profeta che è qui in studio con noi. Massimo, buongiorno a te. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione all'ascolto, naturalmente bisogna tornare a vincere. C'è un po' di delusione, Anna, per la sconfitta interna partita contro la capolista Torres proprio mercoledì scorso. È stato mancato direi l'aggancio alla vetta e non fallito perché a mio avviso questa squadra sta andando al di là delle più rose aspettative perché è una squadra molto giovane e inesperta, sta facendo un ottimo lavoro Zeman. Certo, la Torres si è dimostrata più squadra, più forte in questo momento, ha fatto meglio nella prima ora di gioco. Poi è venuto fuori la Pescara ma sullo 0-2 è stato anche sfortunato l'11 di Zeman che avrebbe senza dubbio meritato il pareggio per le due traverse clamorose che sono state timbrate dopo l'1-2 di Merola da Moruzzi e da Cangiano. Proprio Cangiano dovrebbe essere una delle novità nel prossimo confronto con la Recanatese, programma domenica alle 18.30. In attacco ci dovrebbe essere qualche cambio, quindi Cangiano per a Cornero. Soprattutto Tommasini che è entrato secondo noi bene in corso d'opera nel match con la Torres, era molto determinato Tommasini, potrebbe essere il suo esordio dal primo minuto. Dunque panchina per Cuppone, a centrocampo scalpitano sia Aloy che Franchini, ormai ristabilitosi completamente dall'infortunio di natura muscolare, è patito lo scorso 19 settembre, dunque è passato oltre un mese nella trasferta di Carrara contro il Sestri Levante. Poi in difesa è previsto anche un altro cambio a sinistra, Milani per Moruzzi. Per quanto riguarda invece la Recanatese, sta disputando un buonissimo campionato, settima in classifica e il secondo campionato di C, 14 punti. Nell'ultime sette partite quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Nel derby con l'Avis Pesor, allenata da un buon allenatore, da un buon tecnico come Giovanni Pagliari, che conosciamo bene qui in Abruzzo. Prima è stato un attaccante da calciatore, ma molto amato a Chieti. Nel 1991, la vittoria del campionato di C2 con Ezio Volpi, allenatore. Poi come allenatore all'Aquila nel 2013 ha vinto il campionato di Serie C2, quarta stagione alla guida della Recanatese. Era entrato in corso d'opera, era stato ingaggiato in corso d'opera, quattro stagioni o sono, e salvò la Recanatese in Serie B. Poi la promozione in Serie C storica per la Recanatese lo scorso anno i play-off per la prima volta e quest'anno insomma un ottimo settimo posto dopo dieci partite con quattordici punti all'attivo. Gli ex sono tre, quello più atteso è Federico Melchiori, che conosciamo molto bene, attaccante sempre verde, immarcescibile direi. 36 anni, classe 87, che ha giocato nel Pescara nella stagione 2014-15, segnando 14 gol. E poi ci sono i giovani, cresciuti nel vivaio Quacquarelli e Longobardi. Davanti, oltre a Melchiori, c'è un altro attaccante che non ha bisogno di presentazioni e si chiama Alessandro Sbaffo. Una partita da giocare, naturalmente il Pescara deve tornare a vincere. Nell'ultime tre all'Adriatico un solo punto conquistato con la Vispesaro e un solo gol realizzato. E poi Massimo c'è anche un'altra squadra, Bruzzese-Chemmini Tancì, che è il Pineto che ieri comunque ha conquistato un punto importante. Assolutamente, di inestimabile valore nella difficile trasferta di Carrara contro la carrarese di Dalcanto, tra l'altro in 10 uomini. Anna, perché era in inferiorità numerica, è stato espulso a Maddio. È arrivato il gol di Volpicelli, che è il valore aggiunto della squadra di Amaulo. Sono quattro risultati utili consecutivi, due vittorie e altrettanti pareggi. Grazie. Grazie.